141 lavoratori a rischio solo nel centro commerciale di Modugno, un'avvertenza che però abbraccia anche altri negozi nel resto della Puglia. Filmcams, CGL e Wiltux tornano a protestare per la situazione della ex Oshan. Un folto gruppo di persone ha manifestato davanti alla presidenza della regione per chiedere l'intervento delle istituzioni. Da quando il gruppo Conad ha rilevato i punti vendita su tutto il territorio nazionale, non sono state chiarite le intenzioni su quello che sarà il destino di alcune delle strutture e ovviamente sulle ricadute occupazionali di queste decisioni. A Modugno già da questa settimana inizierà un fuori tutto, guarda caso a pochi giorni dal ridimensionamento degli spazi di vendita che inizierà il prossimo 20 luglio. Probabile che Conad ceda un terzo operatore il negozio. Abbiamo necessità che l'istituzione intervenga, abbiamo necessità che qualcuno ci dia una risposta, visto e considerato che l'azienda si è guardata bene dal farlo. Noi abbiamo avuto delle informazioni tali da darci e farci pensare che il processo di passaggio sia stato già attivato. Margherita Distribuzione continua a portare avanti la sua trattativa con un altro operatore economico per la cessione di circa la metà della superficie. Si parla ufficiosamente di DESPAR ma noi siamo tenuti all'oscuro di tutto, quindi non sappiamo se ufficialmente è questo il soggetto economico che dovrebbe subentrare, non sappiamo con quali tempistiche, a quanti lavoratori sarebbero interessati e con quali condizioni. E dopo la protesta della task force regionale è arrivata la promessa di organizzare un incontro con i vertici dell'azienda e il comune di Modugno. Possibile dunque un aggiornamento tra questa e la prossima settimana per lo meno per sapere quale sarà il destino del punto vendita e dei suoi lavoratori. Grazie a tutti.